Denis Ordo che parte dal lato tribune, Valentino Rossi che parte dal lato corsia boxer al termine della premiazione con la festa finale, lo vedete tutti, la ruota è già pronta il podio lo allestiremo in un decimo di secondo, saremo giocati ecco qui lo spagnolo di casa Hyundai, molto bene al primo cambio il secondo cambio, deciso, siamo in questo momento verso la S arriva la S, inserimento preciso, non fa scorrere, non fa scivolare Dani Sordo, vanno a 360, guardate Valentino, mamma mia Valentino e Dani, Dani la Sordo, l'ha attaccato al perno centrale esce in questo momento l'alperno, va nella S, si tuffa in corsia box Dani Sordo, il pettine lo supera, Valentino, vanno in cambio di direzione e poi arriva da noi oh bene, via 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 secondo cambio di direzione, vieni dai 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 e si va con Valentino, l'entrata da S, velocissimo da S al 360, guardate Dani Sordo, Dani Sordo al 360, mamma mia che roba Valentino, ecco la 360, dai 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 dai, attaccato devi stare siamo all'uscita della S e si va in questo momento nella corsia del box Valentino si porta in accelerazione vantaggio di Sordo, ma guardate come guida questo, insomma ecco qua, lo spagnolo porta la sua Hyundai, velocissimo, la S si esce dalla S e si va al 360, esagerato, esagerato lo spagnolo mentre Valentino Rossi è largo al 360, lo spagnolo rimane sul perno esce dal perno, si va alla S, dalla S, si tuffa nella corsia dei box mamma mia, Dani Sordo, al pettine, lo salta con un balzo ed è subito corsia box e poi via, Valentino, Valentino, lo attendiamo qui in piedi dai 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 dai, eccolo, vale, il cambio, buono, buono, buono il quarto cambio in direzione, buono e non si porta la S, ci entra bene, dai vale, si porta all'uscita della S, valita nel sordo e imbattibile, siamo al 360 per Vale, ci rimane attaccato, si dai vale, dai vale, fuori dal 360, dentro nella S, dopo di corsia box, eccolo, c'è il pettino anche lui, siamo al pettine, dai 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 Non ci voleva, l'applauso lo merita perché ha fatto vedere dell'alta scuola e dell'Istica. Grazie Danny, grazie, grazie mamma mia, non ci voleva questa. È stato un gigante del volante, ha dovuto vincere la finale. Bravi Danny, ormai lo hanno fermato, ma lo hanno avvisato sicuramente. Lui è fermo e l'altro deve chiudere la sua prova, ma ormai sa che è fermo. Il fumo è stato indicativo per Valentino Rossi che adesso va al 3.60. Invitiamo Danny Sordo a ritenere lì perché poi gli attribueremo l'applauso che merita. Bravo Danny, bravo, è un bravo pubblico, grazie, grazie Danny Sordo, grazie. Mentre Valentino ha ancora un giro, credo, a disposizione per chiudere. Adesso gli danno bandiera perché chiaramente ormai la sfida è fatta e da sotto. Giusto che finisce il giro e che cacchio. Danny Sordo purtroppo è stato tradito dalla Hyundai, il vincitore è Valentino Rossi. Adesso lo riceveremo, così vanno le cose, così vanno le cose. Ci può stare in guasto tecnico. Attentiamo di rivedere Valentino in prossimità del traguardo. Noi scenderemo per preparare e fare il lavoro con Valentino Rossi e Danny Sordo. E con la Valentina che arriva, Valentino Rossi. Valentino Rossi! E' lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Un campione abbastanza pieno in talento innanzitutto, ma la fortuna è una componente fondamentale. Lo dimostra anche questo Master Show. Complimenti, andiamo su un bel podio. Rimaneteli dove siete. Grazie.